Ma guarda, quello è scandalo. Questo non si può vivere così. Abbiamo perduto i valori. Adesso tutti hanno il diritto di entrare in Chiesa. Anche i divorziati, tutti. Ma dove stiamo? Lo scandalo degli ipocriti. Questo è il dialogo fra l'amore grande che perdona tutto di Gesù, l'amore a metà di Paolo e questa Signora e anche il nostro.